Sì, ma contro l'Europa, le piace questo nuovo Renzi, versione davvero combattente, almeno così? O è tutta, come dire, una tecnica pre-elettorale? Guardi, io non so cosa stia succedendo, però da circa 10, 20, 30 anni sento sempre fare gli stessi discorsi. Il problema è il debito pubblico, bisogna fare la spending review che nessuno ha fatto, bisogna ridurre la spesa, bisogna contenere le uscite, sempre i soliti discorsi barbosi che non si traducono mai in realtà. Per cui la bega in atto tra Renzi e comunque il governo italiano con l'Europa è destinata ad esaurirsi in un nulla di fatto, come sempre abbiamo potuto verificare negli anni scorsi. Di quello che dice il Papa, a me non importa assolutamente nulla, vorrei che noi avessimo un governo capace di fare due o tre cose, non di più, perché siamo un popolo di inetti, non riusciamo a combinare niente, per cui pretendere troppo da gentiloni sarebbe un atto di eccessiva fiducia o addirittura di presunzione. Purtroppo quello che succede in Italia non è una novità, lo ripeto, lo abbiamo visto andare in scena mille volte e anche in questa circostanza riusciremo a non combinare un tubo. Con la questione dei migranti abbiamo fatto una figura da imbecilli perché siamo stati addirittura noi a voler organizzare tutte le operazioni nel Mediterraneo e ci siamo tenuti anche tutti gli extracomunitari e naturalmente adesso siamo in difficoltà. Ma comunque bisogna stare attenti a parlare di extracomunitari perché ci metti due minuti a passare per razzista. Io sono razzista, senofobo, omofobo, poi sono anche idrofobo, sono soprattutto idrofobo, quindi vorrei vedere che si risolve qualche piccolo problema. Non ne siamo in grado, per cui quando si parla di Renzi io provo non proprio dei conati di vomito ma qualcosa di simile. Quando si parla di programmi, anche provo un senso di fastidio. In sostanza non riusciamo a fare un discorso terra a terra, normale. Siamo veramente in una situazione che sarebbe anche una simpatica barzelletta se non fosse la nostra realtà italiana. Quindi per favore cerchiamo di evitare di illuderci che sia Renzi o che sia Berlusconi o che sia qualcun altro a metterci in sesto. Non siamo capaci.